A Grotte ad oggi i soggetti positivi risultano 37. Molte di queste persone sono sintomatiche, purtroppo tra i positivi anche due bambini che frequentano due diversi plessi delle scuole. Siamo in attesa dell'esito, dichiara il sindaco Alfonso Providenza, di altri tamponi, molti dei quali di persone sintomatiche. Al fine di limitare le possibilità di contagio, da oggi sarà in vigore un'ordinanza riguardante i funerali che prevede la sospensione del saluto di commiato ai parenti, amici e conoscenti del defunto presso il cimitero comunale e dall'esterno delle chiese in occasione delle funzioni religiose, raccomandando in ogni caso di non effettuare saluto anche all'interno delle stesse. Il saluto di commiato ai parenti, amici e conoscenti del defunto presso le sale funerarie è ammesso per un lasso di tempo breve e a condizione che sia presente un numero di persone tale da consentire il rispetto delle regole di distanziamento interpersonale previste dalle vigenti norme ministeriali. Il sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia comunica ai suoi concittadini che da informazioni arrivate da fonti certe ma ancora non ufficiali dall'ASP, a Racalmuto si sono registrati altri tre casi di positività al coronavirus. Si tratta di tre adulti di cui due appartenenti allo stesso nucleo familiare. Tutti presentano lievi sintomi e si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni. Ricordo che ad oggi i casi positivi sono 15, dichiara il sindaco, di cui due guariti. In riferimento alle numerose richieste di chiusura e sanificazione delle scuole, vi comunico che si stanno applicando tutte le procedure e i protocolli previsti dalle normative vigenti e che da ultime indicazioni dal Ministero della Salute la sospensione delle attività didattiche scolastiche, subordinata l'acquisizione da parte dei comuni proponenti del parere obbligatorio dell'ASP competente. Quindi se si dovessero verificare criticità dovute a positività al coronavirus nelle nostre scuole da parte di alunni o insegnanti, chiederò parere all'ASP. Per quanto riguarda la sanificazione, la dirigente della nostra scuola, prosegue ancora il sindaco, mi ha comunicato che viene effettuata tutti i giorni e tutti gli alunni rispettano i protocolli di sicurezza, quindi in questa fase vorrei rassicurare i genitori. In ultimo anche nel nostro comune ora la situazione sembra che stia diventando preoccupante, pertanto oltre alle raccomandazioni mi affido al buonsenso dei cittadini per quanto riguarda il rispetto delle norme anti-covid. E ancora sugli ultimi casi di racalmuto interviene la ditta ed il casa dei fratelli turco che avvisa la gentile clientela che a seguito della positività covid di un componente della famiglia turco, i titolari in via precauzionale nel rispetto altrui comunicano che il negozio resterà chiuso in attesa dell'esito dei tamponi. Si precisa che non si tratta di un componente del nucleo familiare di Angelo e Stefano Turco.